Buonasera e ben arrivata ad Alessandro Di Battista, in questo momento giornalista, quindi diciamo che non siamo più nel Movimento 5 Stelle, non siamo politici al momento, attivisti ancora? Beh, io mi occupo di politica al di fuori delle istituzioni senza essere pagato con denaro pubblico e nell'assoluta libertà. E allora la prima cosa che voglio sapere da lei è un commento su quello che è accaduto ieri, i fatti di ieri, glielo chiedo anche perché so che lei non è convinto sul Green Pass come misura, che ha delle perplessità, diceva meglio l'obbligo, la manifestazione ieri era giusta? Allora, innanzitutto io credo che poi il Green Pass per molte persone sia anche un pretesto, una sorta di detonatore che consente di manifestare contro un governo che secondo me sta adottando politiche ingiuste. Credo che la narrazione appunto quasi santifica, apostolica che viene fatta di Draghi e del suo governo cozzi con la realtà. Io non credo che i politici stiano del tutto rendendo conto di quello che sta covando oggi nella società italiana dal punto di vista appunto della rabbia sociale e della difficoltà sociale. Tante persone che ieri erano in piazza, insomma io rifiuto questa roba di tornare a parlare di fascismo, antifascismo nel 2021. Quindi secondo lei quello che dicono oggi, forza nuova, cioè tutti gli elementi su cui si è focalizzato... Che cazzo che hanno fatto quella... No, mi parlate così, mi farete chiudere la traduzione. Perdone, mi perdoni, quei violenti che hanno commesso, che hanno effettuato quell'assalto sono attualmente i migliori avversari dell'attuale sistema Draghi. Perché sono persone che neanche... Gli utili idioti, come li definisce Giorgia Meloni, quelli della sinistra, gli utili idioti dei poteri forti, direbbe lei. Ma in generale i Novax da un lato, posto che poi il fenomeno Novax sia essenzialmente occidentale, e questi energumeni o pseudotali di forza nuova, fondamentalmente con determinate azioni fanno sì che non si possa parlare di nient'altro in questo paese. In questi giorni si sta pensando di regalare MPS Unicredit, anzi, mettendoci del carico di denaro pubblico, tantissimi miliardi di euro che già sono stati, che sono finiti in MPS, anche in virtù di decisioni scelerate del presidente Draghi quando era governatore di Banca d'Italia, ma di questo non si parla, non si parla di conflitti di interesse e finanza politica. Ma lei questo Draghi proprio non le piace di Battista Melodica, l'ho già sentita dire che neanche al Quirinale lo vorrebbe. Io credo che sia un rappresentante dell'elite e credo che lui politicamente è una persona per bene, rispettabilissima, con un curriculum importante, ma nella sua vita ha fatto sì che il potere venisse accentrato, sia potere politico oggi e in passato potere finanziario. Ma è stato Draghi lo spartiacque tra lei e gli altri del Movimento 5 Stelle? Sì, non soltanto Draghi, in generale un governo dell'assembramento che ha ucciso la politica, perché oggi, fateci caso, Letta esulta per aver vinto a Siena, tra l'altro prendendo 20.000 voti in meno di Padoan due o tre anni fa, nonostante tra l'altro in questa circostanza il Movimento non si fosse neppure presentato alle elezioni a Siena, proprio per favorire l'alleato Letta. Lo stesso Letta che dice la prima cosa dopo aver vinto, secondo me non hanno vinto nessuno le elezioni, visto l'astenzionismo che c'è, è la prima dichiarazione, questa è il rafforzamento del governo Draghi. Sono tutti succubi, perché oggi non c'è un'idea politica da nessuna parte. La Meloni che dovrebbe rappresentare l'opposizione qualche giorno fa ha dichiarato voterei Draghi il Presidente della Repubblica. Quando mai nella storia repubblicana l'unico partito teoricamente all'opposizione avrebbe favorito, avrebbe dichiarato di votare il Presidente del Consiglio della maggioranza? Ma lei viene poi in questo momento di mettersi in politica contro questo ammasso che invece... Ma io lo sto facendo da sempre, non mi sto mai tirando indietro. Adesso, tra qualche settimana, partirò insieme ad altri attivisti in tour proprio per provare a porre attenzione su questioni essenziali e sostanziali in un momento in cui l'effimero detta legge è anche all'interno del sistema mediatico perché si parla di tutto, tranne che delle ragioni della sofferenza economica e sociale dei cittadini. Oggi neanche viene considerato, Veronica, un dramma enorme, che è un dramma psicologico, direi alle volte addirittura psichiatrico, che vivono centinaia di migliaia di persone dopo la pandemia. Basti parlare con i pezzi grossi del Bambin Gesù, le drammatiche condizioni anche psicologiche che vivono moltissimi adolescenti. Cioè il Paese, la realtà non è quella che dichiara Brunetta, godiamo, festeggiamo champagne e cavalli perché è più 6% del PIL. Oggi come oggi l'aumento del PIL è sempre, ahimè, inversamente proporzionale alla redistribuzione della ricchezza. Il dramma oggi che avviene tra l'altro negli ultimi 30 anni per colpa del liberismo forse nato è che la forbice tra tanti poveri sempre più poveri e pochi ricchi sempre più ricchi sia incredibilmente amplificata. Però io le dico, sentendola parlare su tanti temi, lei è rimasto molto arrabbiato su molti argomenti ed è rimasto un dibattista molto di lotta, mentre i suoi compagni storici, militanti, Di Maio, Fico, molti, anche persone a cui lei è stato molto legato, sono diventati di governo. Allora le chiedo, lei per esempio... Io non vedo differenza. ...è destinato ad essere di lotta per sempre? Ma non c'è differenza. Io, poc'anzi, Veronica, ho soltanto presentato delle idee, che sono delle idee. Poi un tempo partenevano al Movimento 5 Stelle, che oggi evidentemente è cambiato il Movimento 5 Stelle, non sono cambiato io, ma non è... E lei pensa che il Movimento 5 Stelle ora non prende più voti, penso, a queste ultime elezioni, proprio perché si è staccato da quello che lei era e che ancora è? In generale, oggi come oggi, le forze politiche funzionano se hanno un'identità. Il Movimento 5 Stelle, penso, la debba trovare o ritrovare. Glielo auguro in bocca al lupo, però sono affari loro. Vincenzo De Luca, ho letto anche un suo post su Napoli e sulla vittoria. Le faccio vedere una piccolissima clip di Vincenzo De Luca e poi mi commenta anche che il Movimento 5 Stelle è su Cube del Partito Democratico, guardate. Sento di dover rendere l'onore delle armi a Virginia Raggi. Non conta niente, è quello che dico io, ma insomma... Avendo anche polemizzato e ironizzato sulla Raggi, devo dire che l'averla vista affrontare con determinazione la battaglia, avviso aperto, con un'assunzione piena di responsabilità, e averla vista da sola nella salata di lunedì, mentre venivano a fare scampagnate i 5 Stelle a Napoli, mi ha quasi indignato. Bene, Virginia Raggi, credo che meriti l'onore delle armi. Ha combattuto. Virginia Raggi merita l'onore delle armi e Conte Di Maio si sono comportati male quando sono andati da Manfredi a Napoli invece di andare da lei? No, insomma, quello occorre chiedere a loro e a Virginia Raggi. Per me Virginia Raggi è stato un'ottima... Sì, ma interessa relativamente. Quel che traspare dalle parole di De Luca è che il Movimento deve capire probabilmente che c'è differenza tra un'alleanza e una resa incondizionata. Perché al momento è una resa incondizionata, secondo lei. Nessuno ha risposto fondamentalmente a queste battutine di De Luca che ha gioco facile, e io gli avrei risposto, però io sono io. E cosa avrebbe risposto? Ce lo dica adesso. Insomma, non mi sarei fatto trattare come probabilmente De Luca intende trattare degli esponenti del Movimento 5 Stelle, non gliel'avrei consentito. Ma se lei fosse alla guida del Movimento 5 Stelle, un'alleanza con Letta, andando d'accordo, avendo dei presupposti... Ma io non credo nel bipolarismo fondamentalmente, io penso che sia una truffa. Credo che uno dei meriti storici del Movimento 5 Stelle sia stato rompere, scardinare il destra-sinistra, centrodestra-centrodestra-sinistra che poi, con il principio dell'alternanza, erano delle grandi fregature per i cittadini. Io non la vedo tutta questa differenza. Io vedo ancora una volta il desiderio delle forze politiche di trovare degli argomenti divisivi per potersi differenziare e andare dall'elettorato e dire io sono diverso da Tizio Caio Sempronio, quando non sono diversi a poter stare della politica economica, sociali, della politica estera. Ho visto tutti quanti a Portico d'Ottavia dalla parte di Israele. Per l'amor di Dio, non sono contro Israele, ma nessuno più che parla dei diritti dei palestinesi. Vedo un popolo, vedo partiti interi che litigano sulle quisquiglie, ma poi fanno accordi e votano una riforma della giustizia che per me salva i ladri. Cioè non c'è un solo partito che salva invece lei, un solo esponente politico? Ma tanti partiti sono per bene. Il tema, Veronica, è che un governo dove governano oggi insieme ex fascisti, ex comunisti, clericali, anticlericali, pseudo sovranisti, nazionalisti, progressisti, radicali, è un governo che uccide la politica perché non può portare avanti nulla che sia di politico e dato che tra un anno e mezzo devono battere cassa gli elettori dicendo noi vogliamo i vostri voti cercano argomenti divisivi per poter dire io sono diverso da costoro. Ma in realtà oggi come oggi basti guardare le politiche draghiane che sono politiche, ripeto, che per me stanno impoverendo soprattutto la classe media. Tutti quanti all'unisono vanno fino a che appunto serve l'argomento, lo specchietto per la lodola e il fumo negli occhi che permetta ancora a quei pochi elettori che votano perché poi il sistema oggi politico-partitocratico gode dell'astensionismo, meno gente va a votare e più il sistema si rafforza. Purtroppo questo è un drammatico circolo vizioso anche se io comprendo coloro che in questo momento non vanno a votare. Ora questo è il suo ultimo libro Alessandro Di Battista Contro che lei è contro, lo abbiamo capito, si sente. Le chiedo, ultima cosa che le voglio chiedere perché non si mette in politica domani contro questo governo in cui sono tutti insieme contro Draghi, l'antagonista. Io sono anche molto a favore di moltissime cose non soltanto contro a cominciare diritti economici e sociali che sono i diritti dimenticati nel nostro paese. Per quel che concerne la sua domanda domani non si fanno le cose rapidamente si devono fare le cose con giusti tempi. Io partirò, ripeto, nelle prossime settimane organizzerò delle tappe per parlare di politica con la P maiuscola in Italia sperando che partecipino molte persone se dovessero partecipare tante persone vedremo quelle che saranno le scelte. Allora, tra un po'. Ci riaggiorniamo tra poco per vedere cosa succede dopo queste prime tappe. Grazie ad Alessandro Di Battista e voi rimanete...